Furto di 900 kg di pomodorini in un'azienda di Ispica Ragusa compra casa e trova due bot da 85.000 euro Modica il tar da ragione alla consigliera Castello Maturità in quasi 3.000 sui banchi per la prima prova Ben trovati con l'informazione di Canale 74 Furto di 900 kg di pomodorini in un'azienda di Ispica I ladri avevano prima tentato di rubare nella casa del proprietario 900 kg di pomodorino secco sono stati rubati nella notte tra domenica e lunedì all'azienda Gribblea di Ispica I ladri avevano prima provato a entrare in casa del proprietario dell'azienda Gino Agosta Cercando di forzare le finestre dell'abitazione dell'uomo a Rosolini intorno alle 13 Un tentativo di scasso che però non sarebbe andato a segno con i ladri che si sono dati alla fuga Dopo l'intervento di alcuni vicini che hanno notato movimenti sospetti davanti alla sua abitazione I malviventi hanno quindi diretto la loro attenzione nella sede dell'azienda che si occupa del settore dell'essicazione dei pomodori secchi di Contrada Timponelli I ladri hanno sfruttato una stradina nel retro dei terreni e indisturbati hanno iniziato a fare razzia di pomodori secchi portandone via circa 900 kg con un danno per Agribblea che si aggira intorno ai 6.000 euro Ieri pomeriggio i carabinieri di Ragusa sono intervenuti in una via periferica chiamati da un uomo che ha trovato il proprio zio riverso a terra, ha deceduto Dopo l'intervento del medico legale si è appurato che l'anziano classe 1940 era deceduto 4-5 giorni prima a causa di un malore La salma è stata quindi restituita ai familiari A Ragusa compra casa e trova due botte del 1947 da 5.000 lire Oggi valgono 85.000 euro Ristruttura la casa appena acquistata e trova in un cassetto due botte messi nel 1947 che ora valgono 85.000 euro È una storia che ha dell'incredibile, quella che vede protagonista Giovanni Parrino e che comincia quando l'uomo decide di comprare casa a Ragusa uno stabile che non gode di buone condizioni e necessita di lavori di ristrutturazione Fatto sta che tra vecchi immobili e cartacce l'uomo si imbatte anche in due botte al portatore emessi nel 1947 dal valore delle vecchie 5.000 lire Parrino si è rivolto dunque ad Agitalia, un'agenzia specializzata che tramite un consulente contabile ha accertato che il valore monetario attuale tra interessi e rivalutazione e capitalizzazione per tanti decenni di giacenza nelle casse dello Stato è pari a ben 85.000 euro L'uomo ha deciso pertanto di conferire mandato all'ufficio legale dell'agenzia per agire al fine del recupero della somma presso la Banca d'Italia ed il Ministero delle Finanze obbligati in solido ad onorare tutti i debiti esistenti anche prima dell'avvento della Repubblica Italiana la richiesta è ora al vaglio del Ministero delle Economie e da Banca Italia per il pagamento della somma E a Vittoria truffa il mercato ortofrutticolo Acquistava cospicue quantità di prodotti agricoli senza pagare il dovuto ai propri fornitori poi ha disperso le sue tracce L'uomo, un 43enne di Enna, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver architettato e posto in essere una truffa di oltre 60.000 euro ai danni di ben sei società operanti presso il mercato ortofrutticolo di Vittoria L'uomo avrebbe iniziato i rapporti d'affari acquistando piccole quantità di merce pagando con regolarità in assegno in contanti facendo leva sulla fiducia acquisita poi avrebbe continuato nel tempo a rifornirsi presso vari concessionari rinviando il pagamento della merce All'atto di acquisto presso i fornitori l'indagate avrebbe versato un modesto acconto in contanti per la fornitura ricevuta per poi consegnare numerosi assegni e risultati insoluti o protestati per saldare la merce ritirata Dagli ulteriori accertamenti svolti dai finanzieri è emerso che l'attività principale per cui il 43enne alla partita IVA inoltre è relativa al commercio all'ingrosso di termoidraulica la società non risulta infatti aver mai gestito ricavi per attività di compravendita di prodotti ortofrutticoli E un altro furto in Corso Umberto a Modica per la quinta volta tocca al Cioccafè la terza in sei mesi Dopo due furti con tanto di sfondamento della vetrina ancora ladri in azione a Modica bassa ancora un esercizio commerciale di Corso Umberto preso di mira dai ladri stavolta è toccato al Cioccafè di Angelo Amore che si trova in Corso Umberto nei bassi di Palazzo Grimaldi I malviventi hanno agito nella notte tra lunedì e martedì utilizzando un ingresso secondario nella via sul retro del locale Da via Grimaldi si accede infatti nel laboratorio cucina probabilmente dopo aver divelto la rete di ferro Una volta all'interno hanno anche aperto la cassa dove hanno trovato circa 50 euro in moneta e hanno arraffato una trentina di bottiglie di liquore oltre a 15 pacchi di caffè La mara scoperta è stata fatta ieri mattina dai titolari e questo il quinto furto il terzo negli ultimi sei mesi Il titolare Angelo Amore si dice preoccupato ma anche sfiduciato perché non si è ancora riusciti ad individuare i malviventi forse sempre gli stessi tanto che al momento non ha nemmeno sport o denuncia L'episodio sottolinea la preoccupazione dopo i due furti nel volgere di meno di un mese ai danni del negozio di abbigliamento Uomo Club che si trova a un centinaio di metri dal Cioccafè Anche questa volta nessuno ha sentito o visto nulla e i ladri hanno agito indisturbati Dimesso dall'ospedale e arrestato il tunisino che aveva tentato di fuggire dall'ospedale maggiore lanciandosi dal secondo piano Dato che l'extracomunitario era colpito da un provvedimento restrittivo alle demissioni sono scattate le manette Nella caduta tutita da alcune piante si era procurato la fattura del bacino e del setto nasale Già per proteste il giovane si era prima cucito la bocca con ague e filo e poi aveva ingoiato una graffetta di ferro Gli sono stati estratti anche una lametta da barba e uno spillo tra esofago, stomaco e piccolo intestino Per questo dal centro di accoglienza di Pozzallo era finito al maggiore Ora ci fermiamo, c'è la pubblicità L'Agenzia Onoranze Funebri Assenza è un'azienda familiare che da 26 anni mette al tuo servizio tradizione, innovazione, onestà e trasparenza Un servizio sempre puntuale e impeccabile alla portata di tutti mettendo a disposizione la propria professionalità con discrezione e affidabilità per l'estremo saluto al vostro caro Assenza, onoranze funebri dal 1989 a Modica In corso Sandro Pertini 60 Autotrucks è una realtà dinamica e all'avanguardia Servizi professionali e di alta qualità Autotrucks è vendita di auto nuove ed usate garantite Officina meccanica e carrozzeria dotata delle più moderne attrezzature garantendo la massima sicurezza ai propri clienti Autotrucks è officina e carrozzeria della rete a posto I migliori ricordi della tua vita I momenti più belli Circostanze piacevoli E a Ragusa ha compiuto il primo passo verso le trivellazioni Per il sindaco Piccitto si tratta di una scelta obbligata Il primo passo nel percorso che porterà le trivelle a Ragusa è stato compiuto Palazzo dell'Aquila ha infatti approvato la richiesta per la concessione edilizia Relativa a nuove trivellazioni Presentata dalla società Irminio Un'autorizzazione propiedeutica all'inizio delle perforazioni E una scelta obbligata secondo quanto disposto dalla regione e dalla soprintendenza Si è difeso il primo cittadino a 5 stelle Federico Piccitto Sostenendo che i sindaci non hanno alcun potere decisionale sulla questione Fatto sta che le trivelle in territorio ragusano e nella valle del fiume Erminio Da semplice possibilità diventano sempre più concrete Una follia per il presidente regionale di Lega Ambiente Mimmo Fontana Che ha già presentato ricorsa al TAR contro il parere della soprintendenza di Ragusa E che annuncia che interverrà con tutti i mezzi a sua disposizione Per scongiurare lo scempio ambientale Fontana accuse il sindaco Piccitto che a suo dire non si sarebbe mai opposto realmente Alle pressioni della lobby petrolifera Arrivando a rinunciare a contestare il parere della soprintendenza di Ragusa Che ha rilasciato un nulla osta paesaggistica Favorevole alle trivellazioni in una zona di tutela paesaggista Nella quale secondo il governo Renzi le trivellazioni sono vietate Incurante delle decisioni del G7 Che si mette d'accordo per ridurre l'uso dei combustibili fossili Puntando sulle rinnovabili Denuncia Lega Ambiente Crocetta continua a guardare al passato Condannando la più grande piattaforma di energie rinnovabili del Mediterraneo Alla retratezza e al sottosviluppo E a Modica il Tar dà ragione alla consigliera Castello Sull'accesso agli atti delle partecipate Il Tar di Catania dà ragione alla consigliera Ivana Castello In merito alla questione della tempistica di accesso agli atti Nella bozza di regolamento era previsto che i consiglieri Potessero accedere agli atti entro e non oltre 30 giorni Dalla presentazione dell'istanza Veniva così a mancare uno dei presupposti fondamentali Del ruolo del Consiglio Comunale Di controllo sulla trasparenza amministrativa In particolare sulle partecipate Lo scorso 6 febbraio il Consiglio Comunale Fu caratterizzato da toni piuttosto infuocati La modifica del regolamento aveva fatto insorgere Alcuni consiglieri dell'opposizione Tra cui la Castello e il presidente del Consiglio Comunale Durante la discussione a tratti animata La segreteria generale aveva dichiarato più di una volta L'intenzione di voler procedere all'adeguamento Del termine di tre giorni previsto per l'accesso Dei consiglieri agli atti comunali Questo fece preoccupare e sospettire alcuni consiglieri Che si domandavano il perché di tale omertà Da parte dell'amministrazione Cosa si voleva nascondere? La condizione è quella di chi vuole fare il proprio dovere E l'è impedito, scrive la Castello Che punta il dito contro un regolamento fuori legge A darle ragione è il TAR di Catania Che annulla la votazione del Consiglio Che boccia l'emendamento della Castello E l'approvazione del regolamento stesso Il termine di 30 giorni Fissato il regolamento per l'accesso agli atti Da parte dei consiglieri Viene dichiarato incompatibile Col concreto esercizio del mandato elettorale Il Comune è anche stato condannato A rifondere le spese sostenute dalla consigliera E i forconi a Modica chiedono un consiglio comunale aperto Sui bilanci L'amministrazione di Modica manca di trasparenza e chiarezza Per il movimento dei forconi di Modica Non è accettabile eleggere a prendere ogni giorno Dalla stampa locale o dai consiglieri comunali Nuove questioni legate alla mancanza di trasparenza Dell'amministrazione comunale E' tempo per il sindaco Abate di dare risposte concrete Reali ed esaustive Basta con le mezze verità, con la mancanza di trasparenza Questa amministrazione vive nella nebbia più totale Sanciscono dal movimento Che chiede al presidente della civica Sise di Modica Un consiglio comunale aperto Alla presenza del revisore dei conti Per approfondire quello che viene riportato Dalla stampa in termini di spese non necessarie Di viaggi inutili degli amministratori Di una gestione cimiteriale equivoca Non ultima la notizia riportata Da un sito online Della partecipazione di un assessore Della giunta modicana A una mostra nazionale di bovini a Bastia Umbra Avvenuta nel mese di marzo Motivando la partecipazione Con il convincimento che la manifestazione Rappresenti un'opportunità di confronto e sviluppo Per il comparto zootecnico del territorio Non ci sarebbe nulla da ridire O quasi se alla manifestazione Fosse stato inviato L'assessore a ramo Un rappresentante del comparto zootecnico Ma protagonista del viaggio È stato un assessore Con deleghe che non c'entrano assolutamente nulla Con il viaggio intrapreso per conto del comune E ora che il sindaco di Modica Si presenti davanti al civico consesso Dicono dal movimento dei Forconi Che rappresenta i cittadini Per spiegare conti alla mano Alla presenza del revisore dei conti Come giustificare tali spese Così pure per la gestione cimiteriale Di cui si continua a parlare Nell'ambito di un coinvolgimento equivoco Dell'amministrazione di Palazzo San Domenico Tutto questo è inaccettabile Non basta che il sindaco minacci Querela il senatore della Repubblica Che lo accusa I cittadini di cui ci facciamo portavoci Vogliono sapere esattamente Come stanno le cose E ci spostiamo adesso a Vittoria Dove ieri mattina Sono stati consegnati I lavori di messa in sicurezza Nella discarica di contrada Pozzo Bollente L'opera progettata dal lato ambiente Ragusa Servirà per evitare ulteriori danni ambientali Sono stati consegnati i lavori Per la messa in sicurezza Della discarica di contrada Pozzo Bollente a Vittoria Gli interventi che sono stati progettati Dai tecnici del lato ambiente Ragusa E che prevedono la copertura provvisore dell'aria Con un telo in polietilene La creazione di 34 pozzi di captazione E lo smaltimento del biogas E la realizzazione di canalette perimetrali Per evitare infiltrazioni piovane Saranno eseguiti entro ottobre Dalla ditta 2G Costruzioni di Agrigento E prevedono un costo complessivo di 1.184.000 euro Pur consapevoli che si tratta di un intervento provvisorio Dichiarato al sindaco Giuseppe Nicosia Bisogna comunque sottolineare che i lavori Fermeranno il danno ambientale Che si è creato negli anni della discarica Spero che le opere vengano realizzate Nei tempi previsti E invito lato ambiente a individuare una soluzione Che consenta di procedere con il risanamento e la bonifica La gestione comunale non ha alcun merito in tutto ciò Se oggi a distanza di 5 anni dalla chiusura della discarica Ancora oggi questa discarica non è bonificata Ma si tratta soltanto di una copertura provvisoria Anche questo bisogna essere molto chiari E' proprio perché il comune di Vittoria Non ha mai versato a lato Le somme incassate dallo stesso comune Per la gestione post-mortem E sulla vicenda va all'attacco Invece il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giovanni Moscato Che sottolinea che i meriti sono dell'atambiente Ragusa E non del comune In conferenza stampa Il sindaco Nicosia ha replicato Proprio a Moscato dichiarando Moscato scopre l'acqua calda E' noto che l'opera è stata progettata e finanziata Dall'atambiente E che anche in questo caso dunque Si tratta di una polemica priva di alcun fondamento Che poteva essere evitata Non c'è nessuna polemica Perché Moscato scopre l'acqua calda La discarica è dell'ato L'ato ha cominciato lì per la bonifica Questa è un primo intervento Ha messo in sicurezza Diciamo La discarica Per un importo di Circo un milione di euro di lavori E a Modica La fontana dello stretto Spenta e in degrado La denuncia del Movimento 5 Stelle Quella fontana rappresenta L'amministrazione modicana La tanto famosa e discussa Fontana dello stretto Fontana Cellini E ormai da settimane all'asciutto E con erbacce che stanno germogliando In modo rigoglioso La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle Di Modica Che solleva comunque una questione Sotto gli occhi di tutti La sistemazione di tale impianto è stata una delle prime azioni Dell'amministrazione Abbate Quando ancora nelle casse del Lente C'era qualche soldo Comunque la liquidità necessaria Per le manutenzioni ordinarie E anche straordinarie Sanciscono dal Movimento Pentastellato Alla luce delle tante spese effettuate Ci si chiede ora Quando l'amministrazione intende operare Per risistemare la fontana Che per la sua posizione È un punto strategico per turisti e visitatori Il grave stato di abbandono In cui versa mortifica tutta la città Inoltre per molti cittadini La fontana dello stretto è ormai diventata Oltre che un simbolo Anche un termometro Di cui si può desumere Il grado di liquidità delle casse comunali Sanciscono con ironia dal Movimento Che chiedono al primo cittadino Di intervenire con urgenza Affinché la fontana sia il più presto ripristinata e sistemata Ridando ordine e pulizia Al centro storico cittadino Maturità oggi si parte con il tema di italiano Comincia oggi per 2806 studenti Della provincia di Ragusa 2696 interni e 110 esterni L'esame di maturità Il via come ogni anno È con la prova di italiano Preceduta dall'immancabile Toto Traccia Da giorni infatti gli studenti Cercano online notizie Sugli argomenti possibili Le indiscrezioni sono apparse stamattina online Subito dopo la lettura del codice Calvino con il sentiero dei nidi di ragno E l'autore scelto per l'analisi del testo La resistenza per il tema storico Per l'elaborato di argomento generale Agli studenti si è chiesto di partire Da una frase dell'attivista pakistana Premio Nobel per la pace 2014 I quattro temi relativi alla redazione del saggio breve Sono invece la letteratura come esperienza di vita Le sfide del XXI secolo Il Mediterraneo e Atlante geopolitico d'Europa La trasformazione della comunicazione Con l'introduzione delle innovazioni tecnologiche Alla vigilia le tracce considerate papabili Erano ben altre Pirandello, Dante Ungaretti Svevo Sabe Paese per l'analisi del testo Per il tema storico Il centenario dell'entrata dell'Italia Nella grande guerra Seguito dai 750 anni della nascita di Dante Dall'anniversario della liberazione E poi Expo, immigrazione, ebola Elezione del Presidente della Repubblica Per il tema d'attualità Ma si sa, è il Ministero da avere l'ultima parola I rumor sui social anche quest'anno non hanno trovato riscontri Ora l'attesa della seconda prova di giovedì Specifica per ogni istituto E poi lunedì per il terzo scritto Preparato dalle commissioni In provincia di Ragusa in particolare Saranno 239 commissari Impegnati a valutare i ragazzi Di 150 classi di quinto superiore Bene, per oggi è tutto Questo era l'ultimo servizio Io vi ringrazio per l'attenzione E arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti